benvenuti video oxytool dedicato alla presentazione della macchina di taglio di oxy si chiama quadra ed è uno strumento utile per frazionare i nostri materiali che quotidianamente andiamo ad applicare la macchina è trasportabile faremo vedere poi l'utilizzo della stessa in questo momento abbiamo montato del materiale del poliestere per il windows film ma è studiata ed è sviluppata per tagliare in maniera ortogonale materiali che vanno dai 30 micron fino a superare i 200 micron indifferentemente che si tratti di poliestere pvc o poliuretanico quindi vuol dire che andiamo potenzialmente a utilizzarla per tutti i settori in cui i materiali adesivi vengono utilizzati vediamo nel un po nel dettaglio un po com'è composta la macchina una struttura in estrusi di alluminio con una resistenza importante capace quindi di mantenere sia l'ortogonalità della struttura e sia di resistere alle sollecitazioni derivanti proprio dal trasporto quindi maniglia di trasporto e ruote che ci permettono appunto la mobilità della macchina stessa sostanzialmente abbiamo due rulli due supporti uno dedicato al posizionamento della nostra del nostro materiale che dobbiamo tagliare un altro dedicato a ricevere le porzioni di materiale che sono state già tagliate un contametri che ci serve per andare a contare letteralmente lo sviluppo di materiale che viene tagliato in senso longitudinale una scala graduata che interna alla gola del nostro estruso che serve poi per il posizionamento millimetrico dei nostri cursori di taglio longitudinali la stessa gola ospita poi il cursore di taglio trasversale diciamo che questo mix dei due cursori più il cursore trasversale mi permette appunto di realizzare il mio il mio frazionamento un profilo mobile superiore che mi permette di far passare il materiale e funge da freno quando devo eseguire il mio rifilo il contametri abbiamo detto quale l'utilizzo ma abbiamo detto che vado a leggere sia lo sviluppo in metri sia lo sviluppo in centimetri quindi vuol dire che abbiamo un taglio che è millimetrato con una precisione millimetrica quindi per quello che è il taglio longitudinale mentre invece la quota sul sullo sviluppo a una precisione al centimetro parlando di windows film sappiamo che questo è più che sufficiente perché andiamo a fare un taglio millimetro per quello che è la larghezza della nostra finestra nella nostra porzione in questo caso di vetri e ci serve comunque avere quella piccola abbondanza ecco perché la precisione al centimetro che può andar bene sul discorso della base in modo tale che riusciamo a definire perfettamente le tre lati della nostra finestra e poi avere la piccola abbondanza nella parte inferiore che andiamo a gestire col taglio diciamo quello che quotidianamente eseguiamo vediamo nel dettaglio l'utilizzo della macchina in modo da vedere il processo di taglio corretto siamo pronti per la dimostrazione pratica due informazioni ancora sulla macchina larghezza totale 1700 quindi vuol dire millimetri quindi vuol dire che possiamo ospitare ospitare fino a 1520 di altezza bobine di cofine semplicemente perché i piattelli che supportano le bobine ovviamente sono scorrevoli e questo vuol dire che sia per quanto riguarda quello che è il tubo che è destinato a raccogliere il materiale e sia il quello che è destinato invece a ospitare la bobina che dobbiamo tagliare vuol dire che possiamo installare poi bobine di altezze assolutamente differenti per questo il contametri che è vincolato alla macchina attraverso un supporto questo è mobile ovviamente perché nel trasporto lo possa staccare e poi perché vedremo che non è sempre vincolante utilizzare il il contametri per i tagli ovviamente a misura invece risulta necessario siamo pronti a eseguire il il taglio reale quindi alzo la mia barra che funge funge da freno posizioniamo il materiale sul sulla nostra base lascio un po di abbondanza semplicemente perché la prima operazione e nel windows film risulta molto importante è intestare il materiale intestare vuol dire che andiamo a creare un taglio che mi permetta di dare una quadratura perfetta alla pellicola quindi prendo il mio cursore trasversale lo faccio scorrere e vado a intestare il materiale quindi tolgo quello che può essere magari un taglio che è stato eseguito con una precisione non non completa a questo punto a zero il contametri quindi attraverso il tastino vado a a zerarlo completamente l'altro intervento importante che dobbiamo fare è quello di regolare la scala millimetrica che abbiamo detto essere all'interno della della gola dell'estruso perché non è mai scontato che il materiale sia avvolto perfettamente in adesione con quello che è la base l'anima della della bobina e che quindi corrisponde in battuta con quello che è il mio piattello quindi vuol dire che è stata realizzata una vite collegata poi alla scala alla mia scala millimetrica che mi permette di di spostare la stessa in modo da far coincidere lo zero esattamente con il il laterale della pellicola questo vuol dire che nel momento in cui vado a prendere i miei cursori che sono vincolati attraverso un pomellino questo mi permette di farli scorrere perfettamente poi di bloccarlo quando leggo il la quota so esattamente che ho una precisione appunto millimetria perché abbiamo uno zero che è stato determinato all'inizio quando ho fatto il posizionamento del del materiale stesso ipotizziamo di fare un doppio taglio e parlo di doppio taglio perché in questo momento e la macchina verrà consegnata con con i due cursori anche in questo caso abbiamo su due cursori longitudinali di taglio la macchina può ospitare a riposo quindi non operativi due cursori nella parte destra e un cursore nella parte sinistra vuol dire che eventualmente potremmo utilizzare contemporaneamente tre cursori che possono generare un frazionamento di quattro elementi si utilizza più spesso meno spesso dipende sicuramente dalle situazioni che abbiamo che che abbiamo oltre i tre cursori quando lavoriamo col 1.520 oltre i quattro frazionamenti diventa sicuramente abbastanza abbastanza difficile avere questa esigenza di taglio i cursori saranno comunque disponibili quindi qualora dovessimo avere davvero una necessità particolare ci sarà sempre la possibilità di acquistare i cursori anche separatamente ipotizziamo di fare una un frazionamento a 50 centimetri l'uno quindi facciamo un primo taglio a 50 e un secondo taglio a 100 il posizionamento viene identificato in maniera chiara attraverso proprio il centro del mio puntale che copre la lama abbiamo zerato il contametri abbiamo zerato la scala e quindi siamo pronti a eseguire il taglio alzo il mio freno lo blocco attraverso queste ghiere che ci sono lateralmente che ci permettono di bloccare le guide laterale non faccio altro che prendere il materiale e portarlo a contatto con le lame vado a intestare la prima e la seconda a quel punto non faccio altro che realizzare questo movimento cioè faccio scorrere il materiale per andarlo poi a prenderle contemporaneamente con le mie due dita la macchina è dotata di un supporto laterale che è molto semplice ma estremamente efficace è stato voluto in questo modo per evitare di avere qualsiasi tipo di lama o di dentatura per la rottura del la lacerazione del nastro carta ed è molto efficace perché riesco a fare una rottura che dia poi origine ancora un lembo di di nastro in modo tale che poi per le lacerazioni successive possa essere comodo vincolo il materiale a rullo che in realtà è un'anima diciamo tradizionale delle delle pellicole da windows film e a quel punto devo iniziare a fare il mio trascinamento come eseguo il trascinamento attraverso i due piattelli che sono fissi e che hanno all'interno un sistema di trascinamento che va a bloccare l'anima e che risulta molto veloce nel senso che non si deve né stringere nulla in fase di inserimento e né smollare nulla in fase di rimozione quindi è un qualcosa di estremamente veloce e rapido mentre ho tirato il materiale ho appoggiato il materiale sul mio rullo per fare il primo taglio ovviamente il contametri ha iniziato a contare lo sviluppo della mia pellicola maniglietta e sono pronto a fare il mio trascinamento mentre mi muovo i cursori vanno a fare un taglio che è estremamente preciso lo vedremo poi nel dettaglio quanto risulta rettilineo ed estremamente preciso il taglio e vedremo anche quanto sarà precisa la quadratura ipotizziamo di aver di essere arrivato a tagliare la quota che mi interessava il bello di questa macchina è che anche su vetrate importanti quando lavoro su altezze importanti capita a volte lavorare su vetrate che superano anche i tre metri a volte anche qualcosa di più qualsiasi altro sistema di taglio diventa veramente problematico chiunque quotidianamente svolga questa attività sa che la gestione dei materiali soprattutto in poliestere vista la loro delicatezza per quanto riguarda le grinze e le pieghette più abbiamo dimensioni importanti ai tagli e più questo risulta delicato quindi qui possiamo avvolgere i nostri tagli e avere la certezza che non non si danneggiano e rimangono diciamo protetti da qualsiasi altro potenziale problema e mi riferisco a cade la bobina si muove quindi a quel punto grinzo devo sempre avere l'assistente o più assistenti qui invece opero assolutamente in maniera indipendente ho letto la quota ipotizziamo che sia quella corretta giù il freno sono pronto a eseguire il mio taglio cursore quindi trasversale svolgo il mio taglio il cursore trasversale ovviamente non ha nessuna interferenza con la pellicola nel taglio trasversale non tocca la pellicola altrimenti la righerebbe ma viaggia su quello che è il binario del del freno a questo punto completo il mio taglio quindi faccio l'ultimo movimento e completo il mio il mio taglio a questo punto l'applicatore ha due possibilità la prima è quella di rimuovere immediatamente il taglio eseguito e fare l'applicazione questa sicuramente un'ipotesi è l'ipotesi dedicata quando io prendo la mia macchina la trasporto vengo in cantiere prendo le mie misure faccio i miei rilievi e taglio immediatamente diversamente abbiamo la possibilità sempre attraverso il nostro nastro carta di andare a chiudere quindi a bloccare i nostri tagli quindi 1 2 e 3 tagli prendiamo la nostra matita la nostra penna il nostro pennarello e andiamo a scrivere le quote di tagli che abbiamo realizzato vuol dire che ho fatto il rilievo torno in laboratorio eseguo tutti i frazionamenti e tutti li vado ad avvolgere su la mia anima potrei poi frazionare i tagli in più magari in più rotoli mettere tutto nelle scatole tornare sul luogo di applicazione ed eseguire le applicazioni certo di avere ogni taglio pronto per il proprio per la propria finestra per il proprio alloggiamento altre funzioni della macchina sicuramente quello di utilizzarla come contametri puro quindi non utilizziamo i cursori quindi li mettiamo nella zona in cui non ho scorrimento di pellicola quindi nella zona che è diciamo non dedicata al taglio e posso tranquillamente caricare le mie bobine e utilizzare la macchina solo per verificare quanto materiale ho sulla bobina stessa questo per il windows film per il wrapping e per tutte quelle attività che sono dove molto spesso ho degli avanzi di materiale tante volte siamo abituati a guardare le bobine per cercare di intuire la quantità di materiale tante volte ipotizziamo una dimensione e magari ci andiamo anche vicino molto spesso invece questo non succede questo è un metodo invece assolutamente preciso per conteggiare il mio materiale per quanto riguarda il poliestere questa ripeto è la funzione o avvolgere i tagli e poi andare in cantiere o portarsi la macchina direttamente in cantiere vediamo adesso il taglio del pvc e quello che può essere un utilizzo della macchina per attività di boat wrapping e car wrapping abbiamo caricato una pellicola da car wrapping quindi siamo passati al pvc sostanzialmente abbiamo le stesse esigenze forse il discorso di intestare per avere un taglio perfettamente dritto in questo caso non ci sono più lo facciamo lo stesso per mettere in evidenza quello che è invece l'utilità di avere il cursore trasversale e anche poi per mettere in evidenza quello che è un taglio estremamente preciso che esegue che esegue la macchina anche sul pvc che è un materiale ovviamente più morbido rispetto al materiale che viene gestito per il windows film abbiamo intestato anche in questo caso vado a zerare anche in questo caso vado a posizionare il mio zero è un meccanismo ed è un processo che poi diventerà assolutamente naturale perché inserire una pellicola da wrapping perché può diventare proprio un metodo di lavoro quindi ho la macchina e il materiale anziché averlo libero in piedi con tutte le problematiche che diciamo poi l'esperienza ci porta carichiamo il materiale andiamo a eseguire la nostra misurazione sulla macchina ed eseguiamo direttamente il taglio faccio due esempi nello specifico dell'utilità di usare la macchina anche per la quotidianità nel cover wrapping separazione paraurto anteriore e paraurti posteriore molto spesso in 1520 ci permette di eseguire un frazionamento del materiale in altezza per con un unico sviluppo poter applicare e rivestire tutti e due i paraurti sia l'anteriore che il posteriore bene in questo caso possiamo fare una separazione che è realmente molto precisa lo snitti o altri o altri modi di tagliare il materiale quando è appoggiato alla macchina con i magneti a volte mi porta ad una ondulazione e a volte è proprio quell'ondulazione che mi porta a un cambio di quota che in alcuni casi risulta non non essere precisa e quindi a volte rischio di essere troppo lungo per la parte anteriore normalmente troppo corto per la parte inferiore in questo caso invece posizionando il mio cursore centralmente riesco a dare per esempio un 80 centimetri di altezza per la parte anteriore e il residuo per la parte posteriore 80 85 normalmente sono sono quelle quelle proporzioni che sono poi corrette in molte macchine ma ovviamente poi questo 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 dipende così come abbiamo fatto il taglio trasversale simuliamo un taglio longitudinale e vediamo che anche qua ci comportiamo esattamente nello stesso modo il materiale è montato azzerato sia il contamenti che la scala mi avvicino in testo il materiale prendo la pellicola me la porto sul mio rullo una volta che appoggiata vado a usare il nastro per il trascinamento faccio notare ed è una cosa ovviamente fondamentale quello che è la precisione di taglio della lama la lama come vedete emerge quindi salta fuori insomma sembra sembra che salti fuori dalla dalla dal materiale e a questo punto attraverso le mie manovelle vado a fare il mio trascinamento perfetto il taglio è assolutamente preciso e anche qui qualora realmente dovessi tagliare i miei due paraurti vuol dire che vado andrebbe a leggere un taglio mediamente 2 metri 80 2 metri 50 3 metri 20 dipende dallo sviluppo arrivato alla quota giù il freno vado a eseguire il mio taglio col cursore trasversale completo il taglio e a quel punto ho i due le mie due porzioni che posso andare a tagliare direttamente abbiamo provveduto a caricare a cambiare materiale rimaniamo sempre nel pvc abbiamo caricato una pellicola stampata quindi parliamo di grafica volevo far vedere un utilizzo differente della macchina sempre in ambito automotive ma quello che vediamo adesso risulta estremamente interessante per chi anche fa boat trapping e per un po poi tutti quelli che possono essere i posizionamenti di fogli importanti su superfici verticali o anche o anche orizzontali anziché ipotizziamo di non dover tagliare nulla ma utilizziamo la macchina solo per girare il materiale cosa vuol dire vuol dire che abbiamo un imbobinamento col la pellicola esterna e invece vogliamo fare un imbobinamento col liner esterno quindi con la con la pellicola interna poi vedremo a cosa ci serve quindi vuol dire che prendo il materiale anziché arrotolarlo nella parte superiore del rullo lo vado arrotolare nella parte quindi a far passare nella parte inferiore sempre il mio nastro carta che mi permette di vincolare il materiale a rullo e a quel punto vado attraverso quelle che sono i miei le mie manovelle a fare l'avvolgimento avevo azzerato il materiale quindi contemporaneamente sono anche in grado di vedere leggere realmente il materiale finisco con l'avvolgere completamente il materiale e mi ritrovo e mi ritrovo in questa situazione a cosa serve questa situazione lo faccio vedere quindi libero il mio il mio materiale vedete che anche la rimozione della bobina è estremamente veloce e come abbiamo detto ipotesi di avere un un boat wrapping quindi dover posizionare il materiale su quello che è la murata dell'imbarcazione piuttosto posizionare su una fiancata di un furgone piuttosto che doverla posizionare sul cofano sul tetto di una macchina se ho il rullo con il materiale girato in questo senso vuol dire che ipotizziamo quello che è il furgone la murata di un furgone mi appoggio alla murata del furgone due magneti e a quel punto andrò a srotolare il rullo nel verso giusto quindi diventa estremamente comodo il posizionamento della grafica stessa per chiarezza lo faccio vedere adesso sul cofano o sul tetto della macchina per diciamo maggior che destra e perché questo è effettivamente un utilizzo che in ambito automotive è estremamente utile andiamo a vederla abbiamo le due situazioni possibili quindi la bobina in questo caso è anche anche questa stampata quindi avvolta normalmente e la situazione che andiamo a creare noi con la nostra con la nostra quadra la differenza è ovviamente immediata avere poter girare il materiale in questo modo vuol dire puoi andare a fare un posizionamento rapido con i nostri magneti e a quel punto mi metto due altrimenti si storta e poter fare questo lavoro che è un qualcosa che è assolutamente comodo ed immediato sia per l'automotive quindi per un furgone la fiancata stessa della macchina ma anche per e soprattutto per il bot wrapping parliamo di bot wrapping perché il posizionamento sulla murata della grafica o del mio o della mia bobina diventa tante volte molto molto fatidiosa proprio per questo motivo ho posizionato come tradizionalmente andiamo ad applicare i nostri a posizionare le nostre bobine quindi vuol dire imbobinamento pellicola esterna e questo è il lavoro che devo che devo andare a fare quindi vuol dire che devo muovermi nel senso nel senso opposto nel bot wrapping dicevo una delle cose più antipade che possono succedere visto anche inizialmente partendo da poppa il peso della bobina e che in questo movimento tante volte si tocca dentro in quella che è la sporgenza che si chiama bottazzo dell'imbarcazione e a volte vado a segnare il materiale stesso con la nostra macchina invece che la nostra quadra riusciamo a girare completamente la bobina e come avete visto l'appoggiamo e l'andiamo a srotolare direttamente ritorniamo sulla macchina e vediamo il taglio di altri materiali caricato una pellicola di sicurezza per chi svolge attività di windows film quindi anche di messa in sicurezza di vetrate sa che sono tra le pellicole più ostiche da tagliare soprattutto in opera molto spesso sono pellicole che non si riescono a rifilare in opera per questo motivo l'intervento in laboratorio quindi il frazionamento della pellicola e il taglio della pellicola a banco diventa poi tante volte l'unica soluzione in particolar modo mi riferisco a pellicole di sicurezza importanti in termini di spessore abbiamo caricato una pellicola di sicurezza con uno spessore che è superiore ai 200 micron per chi poi conosce i prodotti nello specifico l'S80 ha questa caratteristica ha questo spessore importante ed è giusto in questa fase far vedere che la macchina è assolutamente funzionale a questa attività di messa in sicurezza dei vetri quindi vediamo nello specifico il taglio prima trasversale e poi vediamo il taglio longitudinale ho abbondato col materiale proprio perché questo mi permette poi di eseguire la mia cosetta quadratura intervengo con la mia lama e vedete che il taglio è perfettamente rettilineo nello specifico se appoggio la pellicola su quello che è il profilo posso fare un dettaglio e mi accorgo che ho esattamente un taglio che è estremamente estremamente pulito e perfetto questo sicuramente non è un qualcosa di così scontato sia quando taglio a banco perché la pressione del cutter tante volte il movimento angolare la lama in maniera non perfetta porta poi a una sbavatura leggera avendo intestato il materiale posso azzerare il mio contametri sono pronto a fare il taglio longitudinale ho ipotizzato anche qua di eseguire un taglio da 50 e 50 quindi prendo la mia pellicola la porto contro a quelle che sono le mie lame intesto la prima intesto la seconda ho sentito lo scatto del taglio che mi indica insomma mi sottolinea lo spessore importante del materiale faccio appoggiare prima la prima pellicola e poi la seconda stesso discorso anche qua prendo le mie tre frazioni di nastro carta che mi consentano poi di trazionare il mio materiale e partiamo con il taglio la lama esegue il taglio perfettamente rettilineo vedete che non c'è sbavatura arrivato alla quota ipotizzata anche qua stessa cosa vado a bloccare il materiale riparto con il taglio quindi chiudo la mia applicazione mettiamo subito in evidenza quello che è la chiusura e la precisione del taglio della pellicola stessa abbiamo girato la macchina così riusciamo anche a vedere il discorso del trascinamento nella zona dei piattelli che sono fissi lo ribadiamo due piattelli fissi dove vengono inserite le bobine questi due che si muovono abbiamo caricato appunto una bobina materiale da intaglio 50 micron quindi di spessore da 60 vedete che il piattello di appoggio l'abbiamo appunto mosso manteniamo sempre il rullo invece da 1520 che è quello che ci permette invece di ospitare tutti i tagli e i frazionamenti che andiamo a fare anche in questo caso abbiamo mosso il nostro contametri la guida è mobile questo ci consente appunto poi di andarla a posizionare dove ci è più utile questo movimento del contametri serve proprio per compensare quello che è la riduzione dimensionale in termini di diametro delle bobine che andiamo a tagliare man mano che si vanno a consumare la macchina è dimensionata per ospitare bobine fino di di dyno che è un materiale che si utilizza nel interior decoration disponibile in una misura e in un sviluppo di 50 metri lineari ed è sostanzialmente la cito semplicemente perché è la dimensione più importante che andiamo a gestire la macchina è dimensionata per ospitare appunto questo tipo anche di bobina stesso discorso andiamo a fare il nostro il nostro taglio andiamo a intestare il nostro il nostro materiale e anche in questo caso posizioniamo eventualmente il nostro cursore a zero a zero sempre la mia scala graduata alzo e anche qua stesso discorso vado a intestare prendo trascino ok il meccanismo è sempre quello ormai 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 l'abbiamo acquisito questo mi serviva più che altro per diciamo mostrare anche un pvc di una dimensione più contenuta un 50 micron e far vedere quello che è la gestione su questi materiali così come sui materiali da pvc da intaglio in generale la macchina potrebbe essere utilizzata proprio per fare anche interventi di questo tipo faccio l'esempio di quelle che sono le stripes centrali che si fanno sulle automobili piuttosto che delle strisce laterali che vengono posizionate sulle murate delle imbarcazioni o mille altre situazioni posso andare a realizzare le mie strisce con le larghezze alla precisione al millimetro su quello che è lo sviluppo poi che mi interessa ed è un altro utilizzo assolutamente importante della macchina stessa cosa poi vado a completare la mia chiusura e nel trascinamento poi ormai abbiamo imparato a capire qual è questo utilizzo siamo in chiusura di video abbiamo appoggiato la macchina a terra semplicemente per indicare che potenzialmente potremmo anche lavorare con la macchina a terra ho appoggiato su un piano completamente uniforme il banchetto che avete visto utilizzare precedentemente non fa parte della macchina è un banchetto che trovo comodo semplicemente perché ha un'altezza giusta corretta per anche un'osservazione delle scale graduate precisa l'altra cosa che volevo far vedere era assolutamente il discorso della trasportabilità della macchina abbiamo un peso che è di circa senza materiali montati che è di circa 22-23 kg questo vuol dire che la macchina mi permette veramente di muovermi e di portarla direttamente in cantiere e sul mio luogo di applicazione la misura dei 170 l'abbiamo indicata questa quindi è per le pellicole fino a 1520 se ci fosse la necessità di per aziende che lavorano tanto con le bobine più alte da 1820 c'è la possibilità di richiedere la macchina per quelle bobine e quindi avremo una dimensione in lunghezza della macchina che arriva fino a 2 metri di lunghezza non cambia niente cambiano solo gli estrusi in termini poi di funzionalità e di modalità operative è assolutamente la stessa cosa la macchina sarà disponibile da gennaio 2019 chiunque possa essere interessato può già da oggi richiedere informazione o eventualmente prenotare la macchina della nostra quadra per questo video è tutto vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento agli altri prodotti Oxytool grazie